Il cartellone delle manifestazioni dell'estate riberese prevede una serie di momenti di intrattenimento, anche se l'amministrazione comunale ha sottolineato che è stato messo a punto in economia non disponendo di grandi risorse. Il cartellone, grazie alle iniziative di alcuni locali, prevede momenti di spettacolo nelle località balneari di Secca Grande, Piana Grande, Borgo Bonsignore, ma anche nel centro abitato di Ribera. Contestualmente sono state emanate precise direttive cui dovranno attenersi i titolari dei locali nel mese di agosto. Gli intrattenimenti musicali nel centro abitato di Ribera si dovranno concludere alla mezzanotte, nelle località di Borgo Bonsignore, Secca Grande, a Luna, dalla domenica al giovedì e alle due il venerdì sabato e festivi. Deroga alle tre di notte per il 14 e 15 agosto. A Piana Grande, in considerazione dell'assenza di abitazioni nelle immediate vicinanze dei chioschi, l'intrattenimento si potrà prorogare fino alle due di notte, dalla domenica al giovedì, fino alle tre e trenta, nelle giornate di venerdì sabato e il 14 e 15 agosto. Fino al 4 settembre è in vigore la zona traffico limitato sul lungomare Gagarin di Secca Grande, dalla domenica a giovedì, dalle ore 21 e 30 all'una, il venerdì e sabato dalle 21 e 30 alle due. Per tutto il mese di agosto, su iniziativa dell'amministrazione comunale della Prologo di Ribera, sarà attivo il servizio navetta gratuito Ribera, Secca Grande, Borgo Bonsignore, con diversi orari a partire dalle 9 e 30 della mattina e per l'intera giornata. Il servizio di bus navetta serale sarà attivo solo nelle giornate di venerdì e sabato e il 14 e 15 agosto. Il cartellone dell'estate riberese prevede attività per i diversamente abili in spiaggia, karaoke, spettacoli musicali e manifestazioni sportive.